Sì, sono! l'amore 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 il video a l'amore l'amore ma la prima volta le impressioni del dopo la prima volta che ho detto davvero una buona domanda e quindi abbastanza del pericolo la un'altra cosa ha mandato apporto la testa un'altra fatale come andata bene bene il palio come andata Vada! Io, un matrimonio, io mi casco la data tanto, mi sento giù a schiena, mi vendo un po' corrotta, amato.